Piero e Claudio, i tempi ve li date da soli, vi mettete l'orologio? Sì, l'orologio è qui. Ci siamo? Ok. Allora, buonasera ai frequentanti del corso dell'università, che vedo tutti quanti pronti con gli appunti per questa lezione, e agli insegnanti che continuano con coraggio e passione a seguirci in questo lunghissimo corso, del quale siamo arrivati alla penultima lezione. Lunedì abbiamo l'ultima lezione in cui cercheremo di tirare le somme dal punto di vista della figura professionale del docente, cioè tutto quello che ci siamo detti, come va a formare una persona che entra in classe e insegna storia, e però, come sapete, recupereremo il venerdì successivo quella lezione sui quadri storico-geografici rappresentati attraverso le carte, quindi questa sintesi storica che ho preparato e sarà l'ultimo momento in cui noi ci vedremo. Oggi noi affrontiamo due problemi che sono intrecciati e li presentiamo in modo intrecciato fra di loro. Uno è quello del rapporto tra storia e educazione civica, o educazione alla cittadinanza, e l'altro è il rapporto tra storia e public history. Qual è il nesso che tiene insieme queste due cose? Il nesso è il versante che noi troviamo nell'insegnamento della storia fra la storia e la società. Uno insegna storia perché deve formare dei ragazzi capaci di leggere la società, e quindi uno scopo sociale, uno scopo civico formidabile, e chi paga l'insegnamento della storia e i governi si attendono a una sorta di ritorno da questo investimento che fanno sull'insegnamento della storia. Noi stiamo vivendo una fase di fortissimo cambiamento da questo punto di vista. Ce ne parla Piero Colla, che ci parla in questo momento da Brissel, lui è nel cuore dell'Europa, è un funzionario europeo che si occupa però di didattica della storia, lavora in un seminario parigino specializzato in questo campo, ha insegnato didattica della storia all'Università di Bologna, ed è specialista dei paesi scandinavi, questa è la sua specializzazione. Lui ci parlerà di questo tema, che diventa caldo ed è caldo in questi momenti, lo vediamo soprattutto per certe cose che stanno un po' impressionando quei pochi storici che si occupano di didattica della storia. Il fatto che la storia sta progressivamente retrocedendo negli interessi governativi e viene man mano sostituita da educazione alla cittadinanza. Oggi se vuoi fare un progetto finanziato dall'Unione Europea, o un progetto accettato dall'Unione Europea, deve essere un progetto sulla cittadinanza. Se noi andiamo a vedere le competenze di vari documenti che sono stati elaborati nel corso del tempo, vediamo che sempre di meno la storia c'entra, la dobbiamo ritrovare sempre nella cittadinanza. Questo è a livello generale e a livello particolare. Poi troviamo una cosa che non è stata notata da nessuno in Italia, per quanto sia, a mio modo di vedere, gravissima. Cioè il fatto che l'educazione civica, che era stata formulata sempre in uno stretto rapporto con la storia, a partire dalla prima legge fatta da Aldo Moro nel 1958, era sempre storia ed educazione civica, nelle vecchie pagelle c'era storia ed educazione civica. Se voi andate a prendere la legge, il dispositivo legislativo, e andate a vedere il dibattito, così lo potete fare perché su Historia Ludens l'ho ricostruito, troverete che nessuno ha parlato di storia a proposito di educazione alla cittadinanza. L'educazione alla cittadinanza è qualcosa che si spalma su tutte le discipline e da questo punto di vista la storia, ovviamente agli occhi del Ministero, è uguale a tutte le altre. Che questo sia una cosa grave, qualche storico lo pensa, io credo che molti insegnanti ne siano convinti, e questo è uno dei temi per cui noi abbiamo pensato di chiamare Piero Colla per affrontare questo tema. Il secondo tema intrecciato con questo è quello della public history. Anche questo, per quanto la public history negli Stati Uniti sia una disciplina, una pratica molto precedente ai cambiamenti che noi stiamo vivendo, in questo momento diventa una pratica interessante, una pratica che sta prendendo piede e prende piede soprattutto in ambito universitario. La cosa che va notata è che con l'esplosione dei master che di recente si è avuto, abbiamo una notevole quantità di master su storia e public history in molte università e non si è riusciti in questi anni a fare nemmeno un master di didattica della storia. L'interesse degli storici è sulla public history, perché hanno l'idea e pensano che la public history sia uno strumento che li metta direttamente in contatto con una società che loro vedono più lontana, sempre più lontana. Di conseguenza il contatto che gli storici avevano attraverso la storia, il canale in tempo privilegiato, università, scuola, società, è un canale che anche agli storici, agli occhi degli storici, nonostante la profusione di espressioni di interesse nei confronti della didattica della storia, è un canale che perde sempre appello. Questi sono i due motivi per cui noi abbiamo messo insieme queste due relazioni e do senz'altro la parola a Piero cercando di capire da lui quali sono e quali secondo lui i problemi che ci legano l'Italia all'insegnamento dell'educazione civica nel raffronto che lui ci presenterà con una realtà molto diversa dall'Italia ma che probabilmente è utile confrontare con la nostra realtà, qual è la Svezia. A te Piero. Grazie mille Antonio, metto subito in moto la presentazione che nel frattempo è scomparsa dal quadrante un secondo. Dopo che il primo esperimento era stato perfettamente efficace, a questo punto è sparito tutto. un secondo. Capita sempre così, in realtà. Sì, sì, no, dopo che il test ci eravamo detti, ma come funziona bene? Scusate. Dunque, presentazione PowerPoint. Ah no, è semplicemente che non era più visibile, adesso la riapro da capo. Ecco qui, ora la vedo. Vediamo se posso rendere visibile anche a voi. Perfetto, perfetto Piero. Ecco qua, la visualizzazione è quella giusta? Vai. Benissimo, grazie mille per la presentazione. Antonio, anche perché permette anche a me e a Claudia che appunto non abbiamo concepito appunto questi nostri due interventi come qualche cosa di completamente appunto pre-organizzato e complementare, ma con la tua introduzione hai già legato i due interventi e penso che poi l'obiettivo di oggi, anche se non sono esattamente, me ne è rammarico, insomma un habitué del tuo corso, spero di esserlo a partire da questo momento, penso che dopo le due presentazioni troveremo il modo appunto nello scambio tra di noi e con chi vorrà intervenire, di chiarire tutti i punti di contatto che ci sono e dalle discussioni precedenti con Claudia è emerso chiaramente. Grazie innanzitutto per l'invito, sia appunto al professor Brusa, alla professoressa Villani e a tutti gli organizzatori del ciclo di lezioni. Partecipo, come ha accennato Antonio, da Bruxelles, dove vivo e lavoro da una quindicina d'anni. Sono tanto più entusiasta di essere con voi perché dopo essermi formato in Italia, in particolare a Bologna, come storico contemporaneista, ho trascorso gli ultimi 30 anni della mia vita all'estero e mi sono ricollegato al dibattito italiano sulla didattica della storia soltanto negli ultimi 3-4 anni toccando due ambiti a cui mi riferirò oggi e che trovo assolutamente complementari, che sono i miei ambiti di ricerca, ossia da una parte le ideologie sottese ai progetti di riordino complessivo dei sistemi educativi e in particolare la questione del ruolo della scuola al servizio di un'idea di cittadinanza e d'altra parte la questione della didattica della storia intesa in modo più specifico con tutte le tensioni, le ansie, le attese che la circondano. E quindi ritornando in contatto per il tramite soprattutto di Luigi Cagliani che ringrazio molto, se per caso ci ascolta, di aver funto un po' da tramite di ricollegarmi a questo dibattito italiano di cui avevo captato solo degli ecchi attraverso in particolare il tempo dei progetti Berlinguer, De Mauro, il riordino dei cicli e la questione del posto della storia del Novecento. Ma dopo un'esperienza di esilio e di immersione totale in altre esperienze di riforma educativa il contatto rinnovato con l'Italia mi ha fatto percepire che in fondo c'è un filo continuo di preoccupazioni a cui adesso mi posso riaffacciare con più, forse con un po' più di consapevolezza e forse anche con qualche profitto per chi ci ascolta dopo questa traiettoria tutta svolta in particolare nell'Europa del Nord. Quindi mi scuserete già in anticipo se insomma il confronto con la questione dell'alterità, con l'incrocio delle prospettive sarà un po' un leitmotiv di questo mio intervento. Ho pensato più che esplicitare appunto in modo troppo analitico i punti di contatto che vedo tra le esperienze nordiche e le esperienze italiane in qualche modo di farvele in modo forse meno autoritario insomma farvele percepire ognuna con la propria consapevolezza parlando essenzialmente come in generale più sano fare delle cose che conosco meglio delle esperienze che ho studiato direttamente in particolare la riforma scolastica nella Svezia contemporanea a partire dalla fine degli anni 40 ad oggi esperienze che ho studiato da un punto di osservazione terzo che è la Francia in particolare l'Ecole de l'Ossetude de l'Anseo Sociale a Parigi dove ero giunto senza un particolare interesse per la didattica della storia qualcosa come appunto 25 anni fa ma comunque sotto la diciamo l'attrazione dei insomma di personaggi come François Furet Dominique Schamper che siano interessati a questioni legate proprio alle radici storiche della concezione della cittadinanza che dividono la coscienza europea tuttora la questione dello studio dei patrimoni simbolici su cui queste nozioni fanno leva fino a arrivare alle lacerazioni odierne della memoria e delle politiche dei patrimoni quindi occuparmi del romanzo nazionale diciamo con un concetto che effettivamente è nato in quel contesto francese in riferimento alla scuola svedese non era nei miei piani iniziali ma è venuto in qualche modo spontaneo per il tipo di contesto in cui operavo e qui già a fiore è un tema comparativo perché appunto ho applicato in qualche modo all'esperienza svedese che viene autorappresentata come un'esperienza trionfale la creazione di un sistema educativo spesso puntato come modello esaminato appunto da un italiano con categorie e concetti elaborati in ambito francesi francese concetti che vediamo costantemente appunto circolare muoversi riavvicinarsi anche all'Italia se insomma ripensando alla mia stessa esperienza di romanzo nazionale nel momento in cui ho cominciato appunto a svolgere queste ricerche sulla sulla riforma educativa svedese in Italia il concetto non era particolarmente di uso comune tanto più nella sua diciamo connessione col concetto di romanzo familiare che appunto indica un po' la l'affinità con la psicanalisi le scienze sociali di questo tipo di ricerche non era in uso come non era in uso quello di luogo della memoria che dopo si è invece generalizzato a livello europeo addirittura mondiale e ci si può chiedere perché questi strumenti concettuali intellettuali diventino pertinenti in certe fasi storiche che non lo sono state prima può darsi appunto una mia ipotesi che la crisi della coscienza nazionale che in Francia ha accelerato questi dibattiti a partire dalla fine degli anni settanta in Italia sia stata innescata sia stata vissuta in modo diverso più tardivo con ricadute soprattutto più lente sulla riflessione accademica e sullo stesso sistema scolastico quindi è in questo ambito di interessi di sensibilità che ho imbastito il mio progetto sulle radici immaginarie del modello svedese di welfare concentrandomi sulla scuola modello svedese appunto su cui non ci soffermeremo ma è questa terza via vagheggiata e mitizzata in modo duraturo durante il ventesimo secolo da settori disparati vediamo se possiamo fare scorrere un po' il ecco qua dell'intelligenza europea e dove un po' le tutte le parole chiave della modernità occidentale concetti di emancipazione individuale di razionalizzazione tecnica di inclusione sociale hanno trovato un banco di prova società progetto che appunto dopo la scoperta appunto l'attrazione mitica degli anni 30 poi negli anni 60 e 70 è stata teorizzata sistematizzata come veramente un paradigma di democrazia inclusiva efficiente sul piano dello sviluppo sia umano che economico ecco il mio campo di verifica è stato la realizzazione forse più singolare secondo me in qualche modo più coerente di questo progetto cioè la rifondazione dalle basi del sistema scolastico in quanto palestra di educazione alla cittadinanza e alla democrazia o alla cittadinanza democratica gli stessi riformatori parlano nella fase in cui viene semplicemente teorizzato e annunciata la riforma quindi alla fine degli anni 40 di medboria scuola scuola della cittadinanza come obiettivo complessivo del nuovo disegno del sistema è un'opera estremamente lineare diciamo costante nei suoi obiettivi e soprattutto è una cosa a cui non si riflette molto perché non lo si sa ma insomma mi hanno contribuito tutti i leader svedesi del ventesimo secolo cioè non credo che ci sia qualcuno mi contraddirà un altro esempio di paese dove tutti i primi ministri sono dagli anni 30 al 2000 provengono dalla da un'esperienza di riforma dell'educazione sono stati ministri dell'educazione parlo di Tiger Lander primo ministro per 23 anni poi di un certo Ulof Palme poi del suo successore Carlson poi di Joran Persson che è stato primo ministro fino all'inizio degli anni 2000 e questi personaggi che sostanzialmente hanno monopolizzato sono stati al governo per il 90% degli anni tra gli anni 30 e oggi sono stati tutti riformatori del sistema educativo cioè appunto titolari della della redini del ministero dell'educazione nel momento in cui le differenti riforme si sono succedute sono tutti socialdemocratici e si sono tutti rifatti agli obiettivi civici iniziali posti alla fine degli anni 40 l'angolo diciamo il punto di approccio di questa esperienza nella mia tesi dottorato e poi dopo nei miei studi successivi tuttora è la relazione con il passato in questo processo ed è così che sono arrivato alla didattica della storia è un è un angolo insomma un pochino inusuale per questo mi è sembrato utile esplicitarlo cioè l'idea è che Ruolo potesse avere un'invenzione della tradizione nel senso di Hobsbaum impostata sul futuro piuttosto che sul passato quindi un progetto nazionale che si riresetta sull'idea di appunto di modello orientato al futuro alla trasformazione delle stesse appunto degli stessi riferimenti culturali dell'identità nazionale nazionale e quindi la domanda insomma e la controverifica che ho tentato di fare è che cosa ne sia della trasmissione istituzionale del passato quindi dell'insegnamento scolastico della storia nel contesto di un progetto futurista di questo tipo che cosa ne sia di quel romanzo fondante che appunto gli studi transnazionali sull'insegnamento della storia suppongono essere sempre presente al centro dei progetti di insegnamento della storia questo è un riferimento alla tesi che è stato appunto non mi soffermo ma insomma un lavoro ventennale e che è in libero accesso all'URL che si vede sotto questa questione del rapporto tra coscienza civile e consapevolezza storica si presta forse lo si intuisce spontaneamente alla comparazione se non altro perché si pone in termini quasi identici in contesti diversi se pensiamo alle culture wars americane anche là scegliere un nuovo progetto civico significa rinnovare il passato che si pone come esemplare o addirittura fare la guerra al passato tu cur la questione appunto delle opere letterarie di uomini appunto bianchi di stesso maschile e morti quindi il passato come problema in quanto tale nell'affermazione di una diciamo di un'idea di un'etica civica al centro della trasmissione della cultura e la questione un pochino più complessa che forse cominceremo oggi a tentare di discutere ciascuno dei suoi punti di vista riguarda che cosa costituisce propriamente un romanzo nazionale un canone narrativo di riferimento ossia a che cosa serve di quali elementi si compone e come interrogisce non soltanto con le retoriche diciamo quello che più facilmente si studia in didattica della storia cioè la tecnè dell'insegnamento della storia ma anche ed è stato un po' il pulchero della mia indagine con l'ordine giuridico materiale del sistema cioè discipline orari regolamenti funzioni professionali l'indagine appunto di tipo sociologico e infatti dal mio passato di storico l'ho sostenuta come tesi in sociologia ecco qualche esempio qui di come poteva presentarsi il romanzo nazionale purtroppo lo svedese non è immediatamente accessibile quindi bisogna tradurre questa opera di Greenberg è un po' il lavis se avete letto appunto i capitoli della di L'Elie des Memoires sulla scuola francese insomma il titolo svedese dice il destino meraviglioso del popolo svedese in Svezia come in molti paesi nell'ottocento appunto la storia insegnata a scuola era la storia nazionale e appunto manuali di glorificazione del destino nazionale erano appunto presenti in tutte le biblioteche familiari per introdurre già qualche diciamo sbilanciarmi un po' sul piano teorico e sulle risposte che si possono dare ai temi che ho appena posto su che cos'è un romanzo nazionale io direi che è qualcosa di cui si parla anche quando non si vuole e prova ne è il fatto che del canone scolastico in quasi tutti i paesi europei adesso appunto sono attivo come spiegava Antonio in un lavoro comparativo a livello europeo la cosa caratteristica è che sull'incegnamento della storia tutti i cittadini europei tendono ad avere un punto di vista e spesso un punto di vista polemico rispetto alle politiche educative nazionali e non c'è una risposta generale sulle funzioni di questo canone tendenzialmente appunto stabile fisso contrariamente a un'idea diciamo a un cliché che non si identifica necessariamente con la genealogia della nazione nel senso che ritroviamo specialmente in Francia la nazione in quanto soggetto politico ricostruita come un un filo continuo nel caso della Francia dal battesimo di Clovis fino a Napoleone e a De Gaulle questo non è un modello universale domandandosi appunto che cosa definisce il nostro canone di riferimento io cito sempre come esempio appunto un po' spiazzante almeno spiazzante per i francesi che studiando a Bologna le scuole elementari mi avevano spiegato che i miei antenati erano i Galli e quindi questa frase stereotipa la maison spiazzante che i francesi citano sempre come appunto il grande scandalo dell'insegnamento nazionalista della storia per cui va in Guadeloupe o in Martinique e la scuola della Repubblica sosteneva che gli antenati erano sempre i Galli di qualunque colore di pelle tu fossi eccetera in realtà hanno detto che erano Galli anche nel mio caso e questo non ha fatto di me un francese appunto definito dal canone francese di insegnamento della storia anche Robespierre anche Kennedy non parliamo poi di Pericle possono essere costruiti come antenati come figure appunto imprescindibili di un progetto di identificazione quindi il canone nazionale non parla solo della nazione ma anche di altri valori più appunto più complessi che bisogna di costruire che rendono complicato sia l'affermazione sia la decostruzione di questo canone quindi il mio percorso ha consistito nel seguire la crisi di questa genealogia immaginaria nel progetto di riforma fino a costruire come problema di cui spero arrivare a avere il tempo materiale di parlare la crisi del posto istituzionale della storia in quanto disciplina e questo tocca il problema che ho sentito con piacere evocare da Antonio Brusa del fatto di che più che un passato problematico o sensibile più che parlare di questo o quel tema sensibile oggi sia il passato in quanto tale che è diventato un tema sensibile a livello sia nostro italiano sia europeo più in generale che ha portato alla fine nel cuore dell'Europa anche l'attualità di queste settimane quella polemica contro appunto la cultura occidentale come riferimento appunto naturale da cui le culture wars americane avevano preso le mosse a questo punto l'onda d'urto è arrivata fino a noi ecco qui cerco appunto di di accelerare dovendo spiegare appunto da dove nasce questo progetto di rinnovo radicale del sistema educativo in Svezia nasce da questo fenomeno piuttosto strano che si coglie così in modo immediato fotografico con questa foto delle strade di Stoccolma l'8 maggio del 45 è abbastanza curioso che un paese appunto che non aveva partecipato alla seconda guerra mondiale è rimasto neutrale festeggi la data di fine della guerra come una vittoria poi qualcuno noterà che le bandierine che sventolano non sono svedesi ma in qualche caso sono norvegesi ma in questo caso è scattata l'identificazione col paese vicino liberato c'è un'adesione appunto forse tanto più entusiastica quanto più la Svezia è stata effettivamente estranea a tutto il gioco di alleanze di prese di coscienza che sta dietro all'epos della liberazione dal totalitarismo nazifascista un'identificazione assoluta con questo etos irenico antigerarchico che poi fonderà l'organizzazione delle Nazioni Unite non è un caso che troviamo una partecipazione anche molto forte e costante degli svedesi e degli scandinavi in queste organizzazioni internazionali non ci sono pochi punti di contatto tra questi valori affermati appunto al momento della dichiarazione dei diritti all'uomo della fondazione delle Nazioni Unite e poi dell'UNESCO con l'odierna definizione di competenze di cittadinanza che sono sempre appunto pensate in antitesi a un canone diciamo genealogico e nazionali come competenze universali confuse con i diritti all'uomo l'immagine nell'altro angolo della slide allude immediatamente a una polemica che riguarda la scuola cioè questo film Tormenti di Sjöberg che ha poi come sceneggiatore un certo Ingmar Bergman presenta la scuola tradizionale come l'epitome del del fascismo cioè il professore protagonista è un professore di latino che appunto dedito al tormento sadico dei suoi alunni e questa immagine è un po' il contraltare dell'altro ossia per regolare i conti con l'autoritarismo e il fascismo la doxa presenta appunto il problema della scuola e della cultura classica con tutti appunto gli stereotipi dei diciamo il fondamento della cultura umanistica in Svezia era estremamente diciamo connesso con la tradizione tedesca i contatti culturali tra le due tra i due paesi erano molto forti e quindi l'idea che dalla bildung classica e borghese è nato effettivamente il il morbo del totalitarismo ha una una presa immediata e quasi universale in questo contesto e da questa base viene appunto l'idea di decretata appunto sulla base di un lavoro di inchiesta avviato alla fine degli anni 40 poi confermata da una dichiarazione del Parlamento del 50 di instaurare una scuola unica con un unico ciclo continuo con un obbligo prolungato fino a nove anni che era un'esperienza che allora non aveva nessun equivalente nelle democrazie dell'Occidente non esisteva appunto se non nell'esperienza dell'Unione Sovietica se non nei paesi comunisti l'idea di superare completamente il dualismo del sistema educativo a vantaggio di un sistema appunto di formazione civica universale per tutti indifferenziato e costruito intorno ad insegnamenti appunto funzionali alla cittadinanza quindi gli imperativi sono due incorporare in questo processo tutte le istanze della società individualista moderna e purificarsi delle tracce antisociali del passato lontano ci sono ecchi espliciti del progetto che dopo il 45 appunto le potenze alleate realizzano in Germania cioè di rieducazione in senso appunto liberatorio emancipatore della popolazione tedesca contaminata da questi da questo germe totalitario cerco di rendere visibili le cose che non lo sono ecco qua c'è in realtà appunto una radice di questo approccio diciamo tecnocratico e manipolatorio in qualche modo che provengono nella cultura svedese già da radici più lontane nella visione funzionalista della società e che poneva appunto in una funzione di modernizzazione tecnologica la questione in che misura la scuola non è adatta al tipo umano che la modernità richiede questa è un'opera appunto citata qui di Alva e Gunnar Mirdal sono due diciamo compagni di strada della della socialdemocrazia e per inciso premi Nobel entrambi non esistono molti casi di coppie diciamo di marito e moglie entrambi insigniti del Nobel e quindi questo basta significare un po' il peso e l'autorità di questi personaggi ecco e quindi la traduzione di questo atteggiamento nella prima inchiesta pubblica che prepara la riforma del sistema si spinge appunto a un elogio della dell'esperienza totalitaria cioè almeno l'idea è questa i paesi totalitari hanno mostrato che è possibile fondare su una formulazione di intenti precisa un programma di insegnamento cioè dire esattamente che cosa si vuole in termini appunto psicosociali quale tipo di essere umano vogliamo vogliamo creare e quindi si rinnova quest'idea appunto di reset mentale che poi continua appunto in modo come un pilo conduttore della delle varie proclamazioni dietro i vari progetti di riforma ossia che la formazione della personalità l'educazione deve primeggiare sulla funzione di istruzione e la scuola in qualche modo viene in modo quasi automatico e rituale accusata di non svolgere completamente questa funzione di diciamo di riprogrammazione della psiche collettiva rispetto ai valori collettivi che la democrazia impone quindi appunto prendendo le mosse da queste radici volevo chiarire che un tipo di strumentalismo è il contrassegno più inequivocabile di questo progetto di riforma che è definito come riforma permanente globale valida per tutti i livelli del sistema i coniugi specialmente Alva Mirdal era una specialista per esempio dell'educazione prescolare e quindi vedremo in fasi storiche successive che nel sistema svedese appunto o l'adattamento dell'università o quella dell'asilo infantile a questo tipo di modello viene posto come obiettivo queste queste sono le tappe sommarie del processo che appunto vede una continuità tra la formazione diciamo la fondazione di determinate istituzioni la nascita di un meccanismo diciamo tecnologico di riforma continua dei curricula al rinnovo concreto dei programmi di insegnamento specialmente appunto il tema fondamentale dell'educazione alla cittadinanza è di riformare il vecchio approccio confessionale c'è un'impronta appunto protestante estremamente forte nel sistema svedese dell'insegnamento ha una visione di nuove educazioni di tipo definite in termini di obiettivi funzionali educazione estetica educazione al lavoro educazione al consumo alla famiglia e questa batteria di nuove educazioni sociali con una legittimazione politica praticamente universale cioè si tratta di le riforme che descrivo qui e della specificità svedese effettivamente godono di una di un appoggio bipartisan fino alla metà degli anni 80 non sono mai divisive e ho cercato appunto di avvicinarmi a questi nuovi parametri e obiettivi del sistema educativo per capire come come avviene l'evoluzione degli ambiti disciplinari in particolare delle finalità e dei metodi di insegnamento della storia evidentemente appunto il contesto che favorisce la continuità al governo dello stesso partito politico stesso ministro dell'educazione per 16 anni sono cose che appunto non hanno equivalenti né in Germania né in Francia né in Inghilterra e quindi spiegano l'eccezionalità di questo percorso cioè di un' assoluta linearità pensate che appunto la riforma della scuola quindi della scuola di base quando si realizza effettivamente questo avviene dopo dieci anni di sperimentazione metodica sul territorio nazionale in cui alla fine della sperimentazione la metà della popolazione già veniva scolarizzata nel nuovo sistema e quindi c'è anche un'idea appunto di un approccio un po' omeopatico della riforma che è abbastanza caratteristico della cultura svedese l'approccio quindi alle discipline e ai contenuti esistenti è quello che si riassume in questo tipo di di formule in qualche modo quasi sillogismi ossia se bisogna democratizzare la scuola evidentemente la scuola attuale è fondata su premesse antidemocratiche dal punto di vista dei metodi dal punto di vista dei contenuti ma riformulando la questione in altri termini diciamo tutto l'approccio tende a ripensare la scuola mettendola al servizio di finalità sociali generali cioè sconfiggere l'autonomia culturale dell'educazione rispetto a una volontà generale definita la maniera di Rousseau incarnata dal potere politico che non a caso appunto approva formalmente i programmi scolastici quindi materia per materia ogni ogni elemento del curriculum in Svezia è oggetto di un voto esplicito da parte del Parlamento il mio lavoro diciamo si è avvicinato come già forse si può intuire per cerchi concentrici alla questione del canone storico ossia considerando in tappe distinte sia la trasformazione dell'architettura generale dei curricula sia la configurazione degli orari i contenuti espressi nei programmi e poi il corpus delle materie e dei manuali cercando di cogliere la linearità di processi che in realtà non si compiono mai completamente dentro una sola riforma l'esempio da cui mi sembra interessante appunto su cui è pertinente concentrarsi è la traiettoria di una nuova disciplina che si chiama educazione sociale che la declinazione diciamo la versione svedese dell'educazione civica che entra nel curriculo in concomitanza con questa riforma quindi una nuova disciplina di educazione civica e appare finalmente iscritta nei programmi ufficiali della scuola di base nel 1962 quasi contemporaneamente appare anche al liceo ed è rilevante dal punto di vista della storia per due motivi uno a cui accennava anche Antonio Brusa cioè la tradizione anche in Svezia era che un insegnamento di educazione civica con un nome un po' simile appunto di Sam Helzler a insegnamento sociale si trovava dagli anni venti fino a quel momento incapsulata nel corso di storia che si chiamava appunto storia educazione civica quindi la riforma che introduce una scuola della cittadinanza si caratterizza con la differenziazione di questo ambito disciplinare che poi appunto si estende anche al liceo e la definizione del profilo culturale di questa nuova materia è compito di commissioni di esperti che accompagnano tutta la sperimentazione della riforma negli anni 50 e che ridisegnano i profili disciplinari che saranno finalmente votati dal Parlamento quindi questa expertise avviene diciamo in parallelo e si può confrontare diciamo prendere come terreno di prova il sistema scolastico in via di sperimentazione facendo di questo quindi un un banco di prova empirico cerco di accelerare la la cosa saltando un attimo sulla personalità che è il principale diciamo attore di questa trasformazione per mostrarvi l'evoluzione dell'orario settimanale nell'ultimo ciclo triannale della scuola dell'obbligo per darvi un'idea di come avviene appunto concretamente questa questa metamorfosi abbiamo quindi nella quello su cui mi focalizzo è l'ultimo ciclo della scuola obbligatoria l'equivalente della scuola media e inferiore in Italia il monteore attribuito alla storia comprende anche l'educazione civica negli anni 50 a partire dal 62 vediamo questa scissione per cui l'educazione sociale diventa una materia in quanto tale inglobata insieme alla storia in un contenitore più ampio che si chiama l'orientamento sociale che nel passaggio successivo questo vi mostro un pochino l'interesse di studiare in modo consecutivo e continuo questi processi diventa dal 69 sede di un unico diciamo di un unico monteore complessivo che concerne anche l'orientamento cosiddetto naturale ossia le scienze naturali per cui alla fine del processo diventa estremamente difficile distinguere la quota riservata specificamente alla storia nel curriculum perché la premessa è che gli obiettivi sono integrati con obiettivi più generali l'equivalente del processo per il liceo si può distinguere qui anche al liceo appunto negli anni 50 storie educazione civica sono insegnate assieme già nel 65 troviamo sostanzialmente una prevalenza dell'educazione sociale sulla sulla storia in nome di appunto di questi obiettivi che qui esposti che sono essenzialmente incentrati sulla conoscenza non della diciamo degli obblighi o della del funzionamento della della macchina sociale nel suo insieme ma sulle finalità etiche delle istituzioni e sui loro compiti nel tempo presente c'è un appunto un aspetto particolarmente interessante che riguarda non tanto appunto la questione a due a due dimensioni al di là del della regressione che poi continua in modo molto netto negli anni 70 e 80 dell'insegnamento della storia a profitto di questo insegnamento sociale c'è la questione degli stessi contenuti di questo insegnamento sociale che è di per sé interessante cioè vi era un disegno originario dell'educazione sociale che era abbastanza simile a quello che ancora oggi direi un osservatore medio si aspetta dell'educazione civica in Italia ossia una descrizione essenzialmente politico giuridica del funzionamento della macchina istituzionale la costituzione le leggi eccetera e il processo che si innesca in questo momento è che effettivamente l'importante è familiarizzare l'alunno con gli imperativi dell'evoluzione sociale qui e adesso e quindi effettivamente di mutare in modo sostanziale l'identità stessa della materia a partire appunto da senza soffermarmi appunto ho studiato un po' il il clima in cui avviene la la discussione di questi temi dentro le commissioni di inchiesta negli anni 50 e 60 c'è quest'idea di condizionamento tecnico e diretto delle delle reazioni individuali attraverso appunto la biochimica attraverso quest'idea appunto quasi caricaturale della di una pillola che permetta all'alunno meno dotato di seguire la lezione correttamente e che far sì che effettivamente un'idea diciamo strumentale o manipolativa si imponga come finalità naturale dell'orientamento sociale nelle finalità finalmente approvate nel 1962 appunto questi tre aspetti che ho riassunto con presentismo individualismo e centralità dell'etica appaiono uno dopo l'altro in questo semplice estratto degli obiettivi appunto formali di questo insegnamento quindi orientamento di base sulla società di cui l'alunno fa parte e insegnamento posto al servizio dello sviluppo della personalità questo estratto dal 1980 mostra semplicemente la continuità del processo e come l'insegnamento civico sia diventato a questo punto un insegnamento che punta a suscitare una determinata appunto reazione e un determinato comportamento e appunto si declini come la solidarietà a questi obiettivi disegnati in questo modo cerco di concludere nei prossimi cinque minuti per lasciare immediatamente la parola a Claudia per mostrarvi come l'interesse per la dimensione etica dell'insegnamento mi ha imposto di occuparmi della revisione dei curriculum nel modo più globale perché semplicemente lo stesso tema dell'educazione etica dell'educazione ai valori mi scuso se ci sono un po' di errori ho dovuto semplicemente adattare dal francese all'italiano questo schema e mi è spuggita qualche parola tutte queste sono nuove discipline che il sistema scolastico integra tra il 1955 e il 1994 ho preso in considerazione non tanto le riforme attuate quanto il dibattito per considerare anche alcune proposte come appunto l'educazione all'ambiente nel 69 o le competenze sociali nell'80 che non vengono attuate immediatamente ma che poi vedremo comparire in una fase successiva del processo riformatore tutte queste discipline appunto all'educazione domestica alla puericultura ai lavori manuali ripropongono nel loro programma specifico l'idea dell'adattamento appunto alle finalità sociali generali se ci domandiamo in due parole perché questo esito così diverso da quello che si conosce in Germania in Francia in tutti i paesi che si interessano moltissimo alle esperienze iniziate in Svezia ma che non giungono a questo tipo di esito che secondo me è invece quello a cui vagamente uno sguardo comparativo sulla situazione oggi verso cui ci dirige il motivo è che a mio avviso questo approccio si rivela estremamente efficace per depoliticizzare il dibattito sull'insegnamento per legare cioè l'idea di una scuola universale di una scuola aperta a tutti a qualcosa di diverso dai due modelli fondamentali che secondo me si vedono in atto nei dibattiti sulla democratizzazione dell'insegnamento in paesi come l'Italia ossia da una parte l'idea di dire il canone culturale dell'elite deve essere portato diciamo alla reso accessibile a tutta la popolazione oppure da parte conservatrice l'idea no una specializzazione è necessaria per differenze appunto di talento di di resa e di performance dagli anni più dai primi anni della scolarizzazione mentre l'opzione svedese in qualche modo riesce a sfuggire a questa alternativa in nome dell'idea che la scuola per tutti debba essere qualcosa di radicalmente diversa tra la formazione dell'individuo come la cultura occidentale in qualche modo nelle sue varie sfaccettature religiose o laiche l'aveva intesa fino a quel momento ossia che nel momento in cui la società nel suo insieme investe per una formazione continua di nove anni all'inizio ma poi a questo punto lo stesso approccio tende a estendersi al liceo e gli obiettivi stessi debbano mutare e la possibilità per tutta la popolazione scolastica di seguire i corsi fino alla fine deve essere mantenuta tenendo il timone ancorato sull'idea di di insegnamenti di spendibilità pratica chiara e immediata di uso nella vita di tutti i giorni e però appunto con questo aspetto estremamente da un lato inquietante e dall'altro contraddittorio con la stessa idea di educazione all'autonomia che tutto sommato la formazione ai valori sociali del momento deve avvenire in un modo da garantire un risultato cioè l'interiorizzazione effettiva di questi valori nell'insegnamento e quindi se prendiamo ad esempio questo estratto del corso di storia già un sottinteso di tipo morale o moralistico se preferite comincia a insinuarsi nella definizione degli obiettivi dell'insegnamento per cui il stesso insegnamento della storia aderisce all'idea tutto sommato di suscitare appunto qualità psicosociali di disposizione disponibilità al compromesso al funzionare bene in società e insieme evidentemente all'idea della del rifiuto della della xenofobia qualcosa che favorisce in modo meccanico l'impatto di queste finalità sui programmi di insegnamento è l'area sempre più vasta degli insegnamenti interdisciplinari che appunto senza soffermarmi adesso questi temi ad esempio del del 1969 sono tematiche civico-etiche comuni che tutte le materie devono in qualche modo verso cui tutte le materie devono orientarsi quindi questo evidentemente implica un diciamo una selezione estremamente rigida dei contenuti perché appunto dove collocare il medioevo o la appunto la civiltà dei comuni o le guerre di religione in questo contesto dopodiché in modo molto più diciamo approfondito è possibile vedere che c'è una sulla sulla suddivisione delle ore di insegnamento un impatto sempre più profondo che fa sì che il poco orario residuo che si vede nelle nell'ultima nell'ultima linea deve essere riservato a tematiche già scelte a priori per cui l'insegnamento della storia diventa a sua volta funzionale cioè scomposto in appunto i moduli standard che il piano di insegnamento prescrive questo è l'esito generale sul monte ore disponibile per l'insegnamento della storia è un pochino va un po' spiegate queste indicazioni di cifre ho sommato in realtà le ore settimanali attribuite alla storia sugli ultimi tre anni del ciclo obbligatorio quindi queste 9,5 ore sono effettivamente ad esempio tre ore nel settimo anno due nell'ottavo e quattro nell'ultimo e quindi abbiamo una diminuzione che appunto io ho calcolato in questo modo ma ho preso qualche qualche altro riferimento autorevole appunto vengono quantificate in questo in termini abbastanza analoghi come dicevo Claudia non voglio invadere la tua presentazione quindi direi alcune cose le possiamo poi puntualizzare dopo questi slide mostrano qualcosa di come la stessa narrazione o l'iconografia sia influenzata a questo punto dall'approccio presentistico al punto che appunto si ritrovano solo immagini dell'oggi nei manuali degli anni 80 in riferimento a qualunque tematica storica nel caso ad esempio della civiltà greca appunto è la tecnica per cogliere le olive che è l'aspetto messa in evidenza della rappresentazione di un vaso del VI secolo anticristo ma soprattutto appunto non posso evidentemente troppo approfondire ma l'immagine vicina è ancora più interessante perché ci mostra la questione della della non uguaglianza dei sessi nella nella grecia di oggi e la separazione tra i gruppi di donne e di uomini il che secondo me appunto smonta una delle ragioni fondamentali per cui si studia la storia cioè il fatto di alludere alla differenza cronologica di scoraggiare in qualche modo l'anacronismo in questo caso l'anacronismo è posto come obiettivo cioè se studiamo la grecia è perché effettivamente c'è un problema che riguarda noi svedesi di oggi e che possiamo ritrovare in questa grecia insomma del turista svedese contemporaneo che diventa in qualche modo l'unica scusa plausibile per interessarsi in qualche modo del fatto che c'è stata una civiltà greca qualche millennio di anni più in là e di cui la scuola in qualche modo per tradizione o per abitudine si interessa abbiamo spaziato appunto in un arco un po' ampio mi scuso se sono dovuto andare un po' veloce questo è un riferimento a questo seminario appunto internazionale a cui ho accennato vi cedo la parola vi restituisco anzi la parola bene Piero grazie grazie per questa relazione così approfondita che ci ha messo di fronte a un qualcosa che è profondamente diverso ma per certi versi è anche uno specchio di cambiamenti che stiamo vivendo vediamo un po' prima di dare la parola a Claudia se ci sono delle domande dal dal reparto dal reparto che ci segue su YouTube ne arrivano un paio una riguardante la bibliografia e vedremo poi alla fine di dare alcuni elementi soprattutto la prossima volta di bibliografia la seconda invece è una collega che dice a scuola mia ci sono già delle classi dove si fa educazione civica totalmente priva di storia scollegata dalla storia questo giusto per lanciare una discussione dall'aula universitaria viene qualche domanda tanto credo che tutti abbiano notato un qualcosa di comune cioè questa diminuzione progressiva dell'insegnamento dello spazio dato all'insegnamento della storia è come se i governi cedano perdano la loro fiducia nelle capacità formative della storia per riversarla su altri su altri sistemi l'educazione civica è uno di questi oppure il lavoro sulla memoria è un altro ne abbiamo ne abbiamo anche parlato questo è è interessante è un fatto è un fatto che riguarda la maggior parte dei paesi occidentali in Italia è stato piuttosto traumatico perché è avvenuta di colpo ricorderete con il governo Gelmini quindi a partire dal 2008 si è avuta questa decurtazione violenta del programma in alcuni casi di un terzo se non di più delle ore però è un qualcosa che condividiamo e penso che vi possa invitare a discutere a porre domande a fare ipotesi perché la storia perde questo appeal che un tempo era fondamentale vi ricordate le prime lezioni che vi ho fatto i governi investivano una quantità enorme di ricchezze nell'insegnamento della storia nella costruzione della memoria sociale eccetera e adesso sembra un po' rientrata questa cosa perlomeno delle parti nostre questo può farvi sorgere dei problemi credo che sia in connessione con una quantità notevole di problemi che gli insegnanti hanno in classe che loro spesso vedono staccati dal contesto generale come se sorgessero da qualche circolare improvvisamente capitata fra capo e collo quindi ci sono vedo una mano prego vedo una mano chi è? non la vedo? ma sì buonasera chi è? sono Rosito Maria Paola salve sì volevo chiedere una questione diciamo però non so se un intervento diciamo pertinente però la cosa che mi veniva in mente è che noi nelle nostre scuole italiane abbiamo l'insegnamento della religione cattolica allora nel momento in cui ci sono queste ore diciamo di dibattito perché alla fine finisce che la professoressa di religione ti fa fare il dibattito comunque non c'è non ha neanche la valutazione la religione cattolica quindi è una materia tra virgolette anche inutile o comunque in più diciamo che i ragazzi fanno non che anche facoltativa quindi mi chiedevo se invece di togliere le ore cioè non togliere le ore perché comunque è includente il discorso però fare l'educazione alla cittadinanza nell'ora di storia non si può fare l'educazione alla cittadinanza in altre ore o anche per esempio quelle educazioni come educazione alla sessualità all'ambiente che venivano ricordate anche nelle slide comunque diciamo quindi l'educazione della persona a 360 gradi non so se sono spiegata un po' grazie qualche notizia sulla legge che probabilmente la studentessa non conosce la legge attuale è diversa da quella precedente in cui l'educazione alla cittadinanza doveva essere fatta all'interno delle ore di storia questa legge dice l'educazione alla cittadinanza è compito di tutte le discipline e tutte devono contribuire con un certo numero di ore ovviamente questa è la legge e poi come viene declinata nei vari istituti è un qualche cosa ancora disconosciuto da noi nel senso che sappiamo di organizzazioni profondamente diverse io per quanto ci riguarda io ho fatto un progetto ne abbiamo parlato con diversi insegnanti nel momento in cui lo concluderemo lo pubblicherò su Historia Ludens e lo potrete conoscere è un progetto che cerca di ovviare ad alcuni problemi che pone questa legge e fondamentalmente un po' quello che diceva Piro Colla una sorta di presentismo a 360 gradi cioè il presente quanti problemi propone propone problemi della sessualità propone problemi dell'educazione stradale propone problemi dell'ambiente eccetera facciamo una specie di minestrone e questa è l'educazione civica che poi viene ripartita a seconda delle competenze tra le varie discipline però questo ne parleremo fra un po' finisco questo progetto ve lo pubblico rimando però per chi voglia informarsi più dettagliatamente su quella legge ai lavori che ho pubblicato su Historia Ludens che seguono passo passo poi l'iter ministeriale con gli interventi con le varie cose in ogni caso e lo dico agli insegnanti questa legge che dall'anno scorso sta ha movimentato tutte le scuole è una legge che non può per nulla intaccare il dettato costituzionale che dice che sono le scuole che devono costruire il loro curriculum queste sono soltanto delle linee guida non una bibbia da seguire vedo molte scuole che dicono si fa l'ambiente perché c'è l'ambiente poi si fa l'educazione alla cittadinanza poi si fa i tre comparti individuati dalle linee guida le linee guida sono un doveroso se volete atto fatto dall'amministrazione doveroso perché la quantità di richieste che è venuta fuori dal Parlamento era talmente folle che era impossibile scrivere una legge quindi li hanno accorpate alla bella e meglio hanno costruito questi tre campi detto questo cerchiamo con l'aiuto di Piero con l'aiuto delle nostre discussioni di capire qual è il rapporto tra scuola e società e su questo imbastire un discorso concreto di educazione civica ma soprattutto per quello che ci riguarda capire qual è un rapporto corretto tra la storia e l'educazione civica che mi pare sia l'elemento che è saltato negli ultimi 20-30 anni e credo che la relazione ricolla in un paese che tutto sommato è molto più attento alle questioni didattiche e scolastiche di quanto non sia stato l'Italia la cosa ce la mostra chiaramente ho alzato la manina Tonio posso? Sì vai chi è? Io Claudia ah Claudia di io penso che infatti su questo prima di andare avanti magari volevo anche sapere l'opinione di Piero la mia sensazione è che il caso che lui ha così chiaramente mostrato è molto interessante per due aspetti cioè che mostra come in Svezia probabilmente è importante sottolineare il legame che aveva con la Germania come ha fatto Piero sin dall'inizio finisce la seconda guerra mondiale come si fa i conti con questa storia che bene o male è storia degli europei è storia degli occidentali e storia della seconda più grande tragedia insomma che abbiamo vissuto nel ventesimo secolo e mi interessa molto quel passaggio che Piero ha fatto proprio dicendo un po' guardando a come rieducavano i tedeschi in Germania occidentale si è avviata anche una discussione e la sensazione è che la chiave sia tutta lì dopo la seconda guerra mondiale noi europei occidentali dal punto di vista della Svezia che stava anche un po' fuori forse abbiamo pensato che con l'ONU con la dichiarazione dei diritti universali con la vittoria dell'alleanza antifascista ormai avevamo raggiunto l'apice della storia delle conquiste cioè ormai sappiamo quali sono i valori sappiamo cosa non si deve fare abbiamo un decalogo sappiamo cosa una società democratica dovrebbe essere cosa dovrebbe essere la giustizia insomma a questo punto ecco è un po' quello che è successo negli altri paesi forse dopo l'89 che è stato chiamato da qualcuno la fine della storia è veramente la fine della storia che ci interessa insegnare storia cioè sappiamo cosa una scuola pubblica deve fare e orientiamo la scuola per seguire questo tipo di cittadino sappiamo come deve essere abbiamo tutte le risposte e quindi possiamo tutto sommato abbandonare la storia che fino a quel momento però ecco aveva seguito quei canoni nazionali di cui abbiamo parlato tante volte e investire in questa formazione di cittadinanza di cittadini democratici è esattamente un approccio presentista non si fa i conti veramente col passato ma è chiaro che per fare i conti con la seconda guerra mondiale non lo si può fare da contemporanei ecco è un po' come se dall'89 in poi ci siamo svegliati in un secondo dopoguerra alla fine della guerra fredda e ancora una volta facciamo fatica a mettere in prospettiva storica eventi che sono troppo vicini è proprio lo scollamento con la storia che favorisce il decalogo dei valori il decalogo dei diritti stanno lì insegniamo quelli penso che invece tutto il corso di Tonio vada in tutt'altra direzione cioè la capacità di pensare storicamente di analizzare la complessità dei fatti è proprio quello che fonda invece la capacità di giudizio autonomo di pensiero critico che fa il cittadino cioè arriva ai valori per la via autonoma della formazione consapevole anche in rapporto allo studio della complessità del passato è un po' come appunto voler insegnare i bambini piccoli e dire non fare questa cosa perché è sbagliato tutti sanno che i bambini poi alla fine la fanno cioè il percorso è lungo quello dell'educazione responsabile e autonoma e forse appunto servono cittadini autonomi e consapevoli non da ammaestrare come ben ha detto sottolineato varie volte con la il rischio grande è che pensi di educazione come ammaestramento piuttosto che conquista di autonomia e questo penso che venga fuori molto forte dall'analisi che ha fatto e quindi vabbè non so se ci sarà tempo magari lo faremo dopo volevo capire anche se negli ultimi decenni fosse cambiato qualcosa rispetto a questo percorso che è del tutto singolare non so se Tonio avremo tempo adesso lo vogliamo fare dopo dicendo prima di dare un po' un momento di riposo poi riprenderemo con le risposte di colla chiuderei con due osservazioni che provengono dal gruppo degli youtubers li chiameremo così c'è una collega la quale sostiene che le politiche scolastiche europee Elisabetta Condò in generale hanno uno stampo utilitaristico quindi presentistico la storia non è funzionale alla richiesta del capitalismo odierno e poi la riflessione di Luigi Cagliani con cui vorrei chiudere questa prima parte che leggo testualmente in realtà i politici per i politici la storia è sempre stata fondamentalmente educazione civica fin dall'ottocento per creare il consenso della nazione oggi si sta semplicemente svelando l'equivoco l'educazione civica sta diventando egemone perciò in qualche modo sembra volersi sbarazzare dell'aspetto critico che si è sviluppato nell'insegnamento della storia per dispiegare la sua attività scolastica un'educazione civica basata sui valori entra in conflitto con il pensiero critico sviluppato dalla storia credo che abbia fatto una sintesi di tutto il corso in modo meraviglioso ci prendiamo a questo punto dieci minuti per riflettere su queste parole e riprendiamo con una risposta di Piero e poi di nuovo Claudia intanto se avete altre domande da fare fatele e le terremo ovviamente metteremo conto tutti quanti bene dieci minuti di riposo grazie 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 a tutti. 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 che stiamo pronti. Grazie a tutti. 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 disciplinamento del pensiero.